Laudetur Iesus Christus, carissimi figlioli presenti in cappella Domina Nostra e quanti ci seguite attraverso Radio Domina. Oggi, 28 aprile, siamo tutti noi del piccolo resto in festa, in festa perché celebriamo la festa liturgica di quell'ardente apostolo impareggiabile per certi versi di Maria che è stato San Luigi, San Luigi Grignon da Monforte. San Luigi Grignon da Monforte lo celebriamo oggi come festa liturgica insieme a San Paolo della Croce, anche lui un grande santo, ma noi particolarmente oggi la messa la celebriamo in suo onore perché per noi tutti del piccolo resto che siamo schiavi di Maria, ci siamo consacrati esattamente un anno fa, al 31 maggio facciamo un anno di schiavitù e vedremo come festeggiarlo e abbiamo preso ispirazione in molte cose dal trattato della vera devozione a Maria. Il Monforte è una figura poliedrica con molte sfaccettature, è stato un missionario della Croce, avete sentito la prima lettura, era tutta celebrativa della predicazione della Croce, noi predichiamo Cristo crocifisso e lui aveva scritto anche tra i suoi testi più belli un testo dal titolo Lettera agli amici della Croce. Ecco, era veramente uno innamorato della Croce di Gesù in Monforte e dovunque andava piazzava nelle sue missioni popolari la Santa Croce di Cristo, aveva poi il gusto dovunque andasse quando poteva di costruire lì per lì la Via Crucis, era anche geniale nella missionarietà, geniale, sapeva come conquistare i cuori, era pure artista, scolpiva, lì a Saint-Lauren-sur-Sevres dove è morto c'è la statuina fatta e realizzata da lui dal legno, ha tirato fuori una bella statuina della Madonna, scrittore straordinario, credo meriterebbe senza ombra di dubbio il titolo di dottore della Chiesa, ma credo che una delle qualifiche più forti di questo insuperabile campione di Maria, così lo abbiamo definito stamane nella rubrica Santi e Caffè, è quello di essere profetico. Il Monforte come dondolindo ruotolo ha avuto il carisma della profezia, nel trattato della vera devozione ha annunciato i tempi di Maria, siamo nel Settecento, da poco l'illuminismo si sta diffondendo le tesi di una società che per la prima volta vede Dio e la Chiesa come un ingombro, questa è operazione nella sua funzione iniziale satanica, è la prima volta nella storia della società cristiana europea che si comincia a pensare che Dio sia di troppo, che dobbiamo costruire un futuro noi, senza Dio. Quello che era senza Dio dell'illuminismo è divenuto oggi il contro Dio, perché è tutto un procedimento anticristico e certo io che sto terminando l'Apocalisse posso dirvi l'anticristo è sicuramente un singolo individuo, tuttavia dobbiamo sapere come dicono tutti i commentari sull'Apocalisse e scorgere tracce di questa opera dell'anticristo durante il corso dei secoli. Il Monforte comincia a scrivere qualcosa di importante quando per la prima volta si vive et si deus non daretur, dirà Grozio, cioè come se Dio non ci fosse, ma di lì a poco si arriva con Auguste Comte e con altri filosofi positivisti all'idea che non solo non abbiamo bisogno di Dio, ma ci sei anche di intralcio per raggiungere gli obiettivi del progresso. Il tema della redenzione viene sostituito per la prima volta col tema del progresso, la fede viene scalzata via dalla tecnica e così poco per volta attraverso taluni epigoni apparentemente lontani come il capitale di Marx si arriva all'idea che il paradiso è qui sulla terra e che chi lo promette dopo questa vita lo fa per tenere drogate le collettività, la religione oppio dei popoli, Dio dirà Benedetto XVI dall'illuminismo ai nostri giorni, un discorso molto molto importante per far capire che l'anticristo è mica solo una roba così da film dell'horror, lo viviamo, capite? E dice Benedetto XVI la parola di Dio non è più comparsa nell'agenda dell'uomo moderno, dell'uomo contemporaneo, ma il Monfort ha il valore di essere stato realmente profetico perché mentre si andava piano piano costituendo, ne scrivevo oggi nel commento che ho fatto all'Apocalisse che ho pubblicato, se non l'avete fatto leggetelo, aiuta molto a capire quello che stiamo dicendo, mentre Satana e l'anticristo organizzano questa società dove la finanza, la politica, l'economia, la filosofia e persino una falsa chiesa pseudo-cattolica lavorano insieme per adorare la bestia, ecco che scende in campo Maria, questo è il pregio. non so se è stata un'intuizione del Monfort, per me è un punto di riferimento come tutti voi sapete il Monfort, io credo che abbia proprio avuto una visione che avrà pagata cara, avrà pagata cara, cioè lui capisce che se ci deve essere questo impero dell'anticristo come scrivevo stamane, ma ci sarà un impero di Maria, perché il posto definitivo di Satana è sotto il suo piede, tu le insiderai il calcagno, Genesi 3,15, ma ella ti schiaccerà la testa, è d'accordo che è, come dicono molti esegeti, è la discendenza, ma la discendenza viene da lei, dalla donna e Satana odia molto le donne, perché le donne si fidano del cuore, mentre l'uomo usa molto la mente e il cuore non si sbaglia mai, come si dice, tranne che non sia il peccato, è stata una paura di questo, perché Dio passa attraverso il cuore, non attraverso la mente, se si facesse un po' di più quello che le donne suggeriscono, questo mondo cambierebbe, la donna è il drago, l'impero dell'anticristo, potenza, gloria, scrivevo oggi, vi ricordate, svastica, falce martello, gli slogan consumistici, l'aquila imperiale, si sono succedute nel corso dei secoli queste simbologie anticristiche che vogliono dimostrare che Satana è il padrone del mondo, ma dice il Monfort si presenta a Maria la rivale, l'antagonista di Satana, io da anni fronteggio i modernisti mica da ora, non l'accettano che sia Maria a schiacciare la tessa al serpente, vogliono che debba essere Gesù Cristo, ma la scrittura è chiara e i teologi si domandano quelli seri, ma perché deve essere Maria? Ci sono due spiegazioni, una la più immediata, teologica, non può essere Gesù Cristo che è Dio a schiacciare una propria creatura, è una battaglia tutta dentro il mondo della creazione, creatura è Lucifero, creatura è Maria, ma c'è un'altra ragione più profonda, Dio ha previsto di consegnare a Satana una sconfitta cocente, umiliante, perché a schiacciargli la testa sarà proprio una donna piccola e umile e allora ecco questo impero di Maria che andrà di pari passo col governo del grande prelato, saranno queste due realtà, chiamiamole così, a dare coraggio ai cattolici dell'ultima stagione, quella dove il processo anticristico che con l'illuminismo ha avuto i suoi primi albori, oggi è giunto alla sua piena maturazione, ormai siamo al tempo del marchio della bestia, siamo al tempo in cui la falsa chiesa si è costituita come sinagoga di Satana e Maria realizza il suo impero, ma attenzione è un impero antagonista di quello anticristico, per cui se quello dell'anticristo procede con la potenza, con la forza, col dominio, con i soldi, con l'economia e la finanza, l'impero di Maria procederà nella piccolezza, senza mezzi, senza alleanze, senza strumenti, il grande prelato, un altro Cristo, sarà un piccolo pulcino, starei per dire di Maria, sì è così, dobbiamo essere pronti a questo, e perché? Perché Dio sgomina i suoi avversari, voglio dirvi, gli avversari quando avranno cominciato a sentir parlare di qualcuno che li fronteggia senza mezzi, penseranno di farlo fuori in 4 e 4 8 e se lo troveranno invece sempre in mezzo ai piedi, non so se mi sono spiegato, avranno pensato allora, proprio perché non sanno cogliere come Maria governa, come c'è l'impero di Maria, mi capite? Allora siccome loro hanno i loro sistemi interpretativi, appena arriveranno questi apostoli di Maria e soprattutto il grande prelato, eccetera, agiranno in un modo che questi qui seduti al summit del potere anticristico diranno mandiamoli via in 4 e 4 8, pensando perché non vogliono l'eliminazione fisica, devono camuffarsi, vogliono l'eliminazione morale, a loro interessa ghettizzare, capito? Calumniare, diffamare, farti passare agli occhi dell'opinione pubblica come matto e nonostante opereranno questo, questa operazione non solo non gli riuscirà, ma andrà a favore dell'impero di Maria, non lo trovate meraviglioso? E allora qui si capisce quella frase del profetico San Luigi Maria, adveniat regnuntun domine, che noi ripetiamo sempre nel rosario, adveniat per Maria, fioli cari, questo è consolante. Oggi una persona mi ha scritto dal nord una cosa molto bella, che mi ha colpito, mi ha riempito di orgoglio spirituale tutto il giorno, mi ha scritto padre tu sei il padre della gioia, anche se hai le prove talora si vede, ma mi è piaciuta molto perché poi arriva e ha detto sì sei il padre della gioia, che bella questa frase, mi piace, quasi quasi lo vorrei come epitafio, il padre della gioia, non vi pare bello? Sì a me piace molto, non me l'ero mai sentita dire così e mi ha colpito, il padre della gioia. Ma in effetti fioli cari, se ci mettiamo dalla parte di Maria, è già fatta, cosa volete che sia? Cosa volete che sia quello che stiamo affrontando? La vittoria è già garantita. Se uno si perde, si mette dalla parte di Maria, sta tra le braccia della mamma e allora uno sa che la Madonna vincerà. Adveniat regnuntun domine, avveniate per Maria. Il Monforte lo dice chiaro, come la prima volta Gesù Cristo è venuto sulla terra attraverso Maria, così la seconda volta sarà preceduto di nuovo dal regno di Maria. E ancora il Monforte dice nel trattato che perché Gesù Cristo possa tornare a regnare nella società, occorre che Maria regni nei cuori. Ecco perché nel tempo dell'anticristo, dice il Monfort, Maria splenderà in potenza, grazia e misericordia. Con lei che è rimasta nascosta diventerà la domina, diventerà la guerriera, diventerà la generalessa che fronteggerà, ma con lo stile di Dio, la piccolezza, l'umiltà, i affronti dell'impero anticristico, il quale, ripeto, non saprà calcolare lì per lì il rischio che incontrano con i piccoli di Maria. Lì dispreceranno e penseranno di farli fuori facilmente e invece se li ritroveranno sempre tra i piedi. Allora noi dobbiamo pregare molto. Questo è il compito del piccolo resto, figlioli cari. Questo è. Il compito nostro è di pregare per Papa Benedetto XVI, perché la Madonna ce lo tenga a lungo, di pregare per il trionfo del cuore immacolato di Maria, che significa la sconfitta di Satana, e di pregare per il grande prelato. Preghiamo molto per questo. E ciò che possiamo offrire come sacrificio? Offriamolo. Offriamolo a Gesù proprio per il grande prelato, perché realizzi sotto lo sguardo leggi da imperiale di Maria. Guardate, non è un ruolo di poco conto. Instaurerà l'impero di Maria. Lui di fatto lavorerà per la Madonna, il grande prelato. Il suo compito è, nascostamente, diciamo così, ai margini della società, incoraggiare i cattolici rimasti tali in tutto il mondo e creare questa coalizione mariana a cui corrisponde la coalizione anticristica. Questo impero mariano contro l'impero anticristico, questa propaganda mariana contro la propaganda del falso profeta. Tutto mariano dovrà essere. Tutto mariano dovrà essere. Maria è la sicurezza. Maria è la vittoria. Maria è la garanzia. Maria è la gioia. Perché è madre, è regina e non abbiamo nulla da temere. Tutto può accadere, ma se sei tra le braccia della mamma sei sicuro. E allora vorrei concludere, come ho promesso stamane, facendovi sentire una parte, non tutta, della preghiera infuocata che il Monforte scrive. Viene chiamata infuocata da, è stato un noto oratoriano inglese che lo chiama così, che la chiama così, proprio la preghiera infuocata dopo quella delle lettere a cattoliche, il padre Faber. Leggiamo un passo, un paio di passaggi di questa preghiera infuocata. ricordati, signore, della comunità che ti sei acquistato nei tempi antichi. L'hai posseduta nel tuo spirito fin dall'eternità quando rivolgevi a lei il pensiero. L'hai posseduta nelle tue mani quando traevi dal nulla l'universo. Signore, realizza i tuoi progetti di misericordia. Suscita gli uomini della tua destra che hai mostrato in visioni profetiche ad alcuni tuoi più grandi servi. San Francesco di Paola, San Vincenzo Ferreri, Santa Caterina da Siena e tanti altri del secolo scorso e anche del nostro. Ricordati Dio Onipotente di questa compagnia. Ecco, la compagnia di Maria, ho detto stamane, non è prima di tutto una realtà religiosa, una congregazione, una comunità monastica, ma è il piccolo resto. Io penso questo, la compagnia di Maria e sono i cattolici sotto l'impero di Maria che perciò, proprio per questo, rifiutano l'impero dell'anticristo. Ricordati, allora dice in Monforta Dio di questa compagnia, impegna la forza del tuo braccio, fa che sentiamo l'aiuto del tuo braccio. Ricordati, Dio misericordioso, ricordati di questa comunità per compiere la tua giustizia. Sì, perché bisognerà che si realizzi la giustizia di Dio sull'empietà, sull'uomo della perdizione. Il figlio della perdizione lo chiama San Paolo. Nella seconda lettera ai Tessalonici si chiama l'anticristo, il figlio della perdizione. Hanno violato la tua legge. Guardate qui come è profetico, sembra veda il nostro tempo. È stato abbandonato il tuo Vangelo. Scusate, quando è scritto lui non accadeva quello. La società era ancora con l'anzian regime, la società tutto sommato cristiana. Ma è oggi che è stato abbandonato il Vangelo. E non solo dalla società, ma da questa falsa chiesa con questo falso Papa che apertamente rinnega il Vangelo. È stato abbandonato il tuo Vangelo. Attenti, torrenti di iniquità dilagano sulla terra e travolgono perfino i tuoi servi. Quanti oggi non si sono accorti o non hanno voluto accorgersi tra i servi di Dio in vita e non c'è bisogno che faccia nomi, che c'è l'impostura. L'empietà siede in trono. Io credo che non possa essere più chiaro di questo. Siete d'accordo, no? L'empietà siede in trono. Il tuo santuario è profanato. Qual è il santuario di Dio? Ma è Roma, la chiesa cattolica. E l'abominio è giunto nel luogo santo. È una visione profetica che parla dei nostri giorni. Impressionante. Signore, Dio giusto, lascerai nel tuo zelo che tutto vada in rovina. Noi possiamo pensare che Bergoglio vinca? Possiamo pensare che tutti a tutti i costi dovremo farci marchiare? Questo sarà anche ulteriore motivo di divisione all'interno del piccolo resto. Pensate forse che tutti dovremo accettare i diktat ad ogni costo? Possiamo farsi furbi. Dice l'Apocalisse quando la bestia lavora, l'anticristo lavora. Qui ci vuole sapienza. Dobbiamo essere furbi, sapienti, intelligenti, astuti. E diciamo forte, forse assisteremo alla disfatta totale? Non hai rivelato già da tempo a qualcuno dei tuoi amici, questi santi che citava, un futuro rinnovamento della chiesa? Non devono gli ebrei riconoscere la verità? Tutto questo attende la chiesa. Sapete che gli ebrei si convertiranno quando Gesù Cristo sta per tornare. Omnis Israel salvabitur, tutto Israele sarà salvato. Ecco, tutti i santi del cielo gridano, non farai giustizia. C'è proprio un eco dell'Apocalisse. Tutti i giusti della terra implorano, vieni Signore Gesù. Tutte le creature gemono sotto il peso dei innumerevoli delitti di Babilonia. Ecco, che cos'è Babilonia? La porne megale, dice Apocalisse, cioè la grande prostituta. È la società, non più di senza Dio, ma di contro Dio. Una società che si struttura anticristicamente per festeggiare l'impero della bestia e Maria realizza il suo impero. Dovremmo spendere sempre tante parole per questo. E poi Monforte si rivolge a Gesù Cristo. Ricordati, Signore Gesù, della tua comunità. Ecco, sempre possiamo vedere questo piccolo resto cattolico in unione con Papa Benedetto. ricordati di dare a tua madre una nuova compagnia per rinnovare ogni cosa. Così, per mezzo di Maria, concluderai gli anni della grazia. Da figli e servi a tua madre, altrimenti fammi morire. Per tua madre io prego, ricordati di lei che ti ha generato e non mi respingere. Che cosa ti chiedo? Ti chiedo ciò che devi concedermi. Che cosa ti chiedo? Sacerdoti liberi, secondo la tua libertà, svincolati da tutto, distaccati da padre, madre, fratelli, sorelle, parenti secondo la carne, amici secondo il mondo. Quanto è attuale questo? Chi dovrà lavorare per l'impero di Maria, a partire dal grande prelato, dovrà essere del tutto libero, perché il mondo gli andrà contro. Tutto il mondo si solleverà contro questi apostoli di Maria, persino i familiari, persino i familiari. Impedimenti e preoccupazioni. Uomini non trattenuti da propri progetti. Ieri parlavamo di quel principio che in qualche modo esprime anche l'impero mariano, no? Vi ricordate l'indifferenza? Darsi a Dio senza più preoccuparsi di nulla. Capite? Ma molto colpito leggere nei giorni scorsi del sempre per me grande titanico Carol Voitiva, Giovanni Paolo II, che una volta, lui che era sempre in giro per il mondo, un aereo attraverso una zona particolare, non mi ricordo come si chiama, dove a un certo punto la pioggia si condensava in cristalli di ghiaccio che colpivano l'aereo. E uno dei giornalisti presenti a bordo racconterà poi che l'aereo ha perso quota come se stesse precipitando per un minuto interminabile. Si sono alzati tutti e tutti hanno gridato. L'unico che è rimasto seduto, che stava pregando, era Giovanni Paolo II. E tutti l'hanno guardato ammirati della sua pace interiore. Perché? L'indifferenza. Cioè lui si era consegnato alla Madonna, anche quando gli hanno fatto l'attentato in piazza San Pietro. Parlo di Voitiva, secondo voi perché? Ma perché Monfortano, il totustus, chi è che l'ha dato il totustus? Chi è che l'ha fatto diventare sacerdote? Chi è che l'ha fatto diventare sacerdote? Che lui non si decideva? La lettura del trattato. Lui stesso lo dice. Che non si decideva, non si decideva, voleva fare l'attore. C'era questa Anna, non mi ricordo il cognome, che le stava attorno. Quindi lui magari anche un po', ma poi dopo si è consacrato alla Madonna. E guardate che cosa ne ha fatto la Madonna. Anche quando ha subito l'attentato in piazza San Pietro. E noi diamo per contato che poi ha ripreso subito. Ma era un essere umano come noi, no? Penso che cosa sarà significato per lui risalire sulla papa mobile per tornare a salutare di noi fedeli, a riprendere i bambini di nuovo in braccio. E non è che ha rinunciato a quello, capite? Ha continuato a farlo. E i suoi collaboro dicevano, Santo Padre, ma così così cosa? Diceva lui così cosa? Dobbiamo portare avanti l'annunzio di Dio e la missione che ci è stata confidata. Ecco, gli apostoli di Maria saranno così, del tutto liberi di agire per il disegno di Dio. Persone sempre a tua disposizione, sempre pronte a obbedirti alla chiamata dei superiori come Samuele, sempre pronte a correre e a sopportare con te e per te come gli apostoli. Veri figli di Maria, tua santa madre, da lei, e qui viene il passaggio più bello, pensiamo al grande prelato per il quale preghiamo, pensiamo a tutti i cattolici di questa compagnia di Maria che dovrà lavorare per l'avvento dell'impero mariano, da lei portati in grembo. Ecco, qui c'è la chiave di volta che sfugge ai nemici, portati in grembo, ed è la vittoria, nutriti, educati con cura, sostenuti e arricchiti di grazie. Veri servi della santa vergine, guardate adesso questo passaggio quanto è vibrante, andranno dappertutto con il Vangelo nella bocca e il rosario in mano. Qui il Monfort si supera, no? Perché nel trattato aveva detto con i nomi di Gesù e di Maria, vi ricordate? Invece qui dice avranno il Vangelo in bocca, cioè annunzieranno il Vangelo, ma anche il rosario nelle mani. Attenti a questo particolare, vedete che io in questi anni non vi ho ingannato, io non so se la mia missione terminerà con l'arrivo sempre più evidente ormai del grande prelato o meno. So che quello che ho fatto non è poco, se me lo consentite. Ma adesso voi sempre più vi rendete conto, qui e tutti quelli che mi seguite, che non vi stavo ingannando, che non era un inganno. La corona, vi ricordate che lo dicevo? Guardate, chi dovrà venire avrà la corona tra le mani, sarà il segno distintivo di fronte a cui l'anticristo stesso dirà non toccatelo, non mettete le mani addosso a lui. Voi sapete che Hitler mandava a morte, due giorni fa ho visto la storia della resistenza tedesca, la rosa bianca, i due fratelli, fratello e sorella, che sono stati decapitati per volere di Hitler perché avevano organizzato una resistenza contro di lui. Hitler sterminava, eppure, eppure il vescovo di Münster, von Galen, che lo fronteggiava apertamente, che era devotissimo della Madonna, Hitler, ogni volta i gerarchi, no? Himmler, Goering, gli altri, allora lo arrestiamo e lo facciamo fuori a questo bastardo? La risposta di Hitler, enigmatica, enigmatica, non toccate quell'uomo, capito? Così farà l'anticristo col grande prelato e con il paio di apostoli che, indifesi, come pecore, veramente, dice Gesù, vi mando come pecore in mezzo ai lupi, porteranno la verità cattolica, ma col rosario in mano, abbaglieranno come cani, confratelli miei. In questi anni io vi chiedo perdono se vi ho sconvolto, avete sottolineato a più riprese che io urlo, ho urlato, gridato, ora molto meno, ma fioli cari, cari confratelli, questo andava fatto, abbagliare, non belare, abbagliare, lo dice il Monforte, abbaglieranno come i cani per mettere in guardia le anime dall'impostura, dall'impero dell'anticristo, avranno una devozione a Maria e per mezzo di essa schiacceranno la testa dell'antico serpente dovunque andranno. Il demonio tenderà loro grandi insinie, cioè alla compagnia dei suoi figli che verranno, e qui non lo aveva finora detto, si svela il Monforte alla fine del mondo, sul finire del mondo. Ci saranno grandi nemicizie fra questa stirpe benedetta di Maria, quella che sotto il governo del grande prelato dovrà realizzare l'impero di Maria, e la razza maledetta di Satana. I santi non hanno mai avuto dubbi, neppure l'Apocalisse ce n'ha, anzi è quella che espira i santi, non c'è dubbio, non c'è una via di mezzo, è una linea di demarcazione chiara, è uno degli insegnamenti più preziosi dell'Apocalisse, figli della luce, credetemi, miei cari figlioli, vi prego di credermi, non temporeggiate, ormai è tempo, figli della luce o figli delle tenebre, avete capito? Non fatevi illusioni, è ormai facile andare in giro e vedere, figli di Maria o figli di Satana, figli della verità o figli della menzogna, non ci possono essere dubbi, ci saranno grandi nemicizie, le lotte, le persecuzioni che la progene di Belial, cioè gli accoliti dell'anticristo, della falsa chiesa, muoverà ai discendenti di tua madre, serviranno, quello che vi dicevo poco fa io, solo a far meglio risaltare quanto efficace sia la tua grazia. Non vi conforta tutto questo? A me mi entra dentro come una terapia. Coraggiosa la loro virtù è potente tua madre e le persecuzioni che la falsa chiesa procurerà agli apostoli di Maria serviranno solo a mostrare la potenza di Maria. Scrivevo oggi nel post, la falsa chiesa ha già progettato che quelli che non si omologano useranno la scomunica, usano la scomunica, usano l'interdizione, usano le condanne che una volta si usavano per gli eretici, ora gli eretici li adoperano per gli apostoli di Maria, ma questo servirà a mostrare la potenza di Maria, che preghiera veramente infuocata. A lei infatti hai affidato fin dall'inizio del mondo l'incarico di schiacciare con il calcagno e l'umile cuore la testa di quello orgoglioso. E infine il Monfort si rivolge allo Spirito Santo, purtroppo il mio tempo è terminato, concludo come conclude lui. E quanto a te, grandio, non ci sarà quasi nessuno che prenda a cuore la tua causa, anche se nel servirti c'è tanta gloria, udirai dolcezza? Lasciami allora gridare dappertutto, al fuoco! Qui chissà che cosa ha visto. E quando tante volte oggi nelle profezie, nelle visioni che mi citate da tutto il mondo, si parla della cupola di San Pietro che viene giù, le macerie della Basilica, piazza San Pietro in Vasa, non per forza dovete pensare necessariamente, non è da escludere, ma non per forza è un'interprezione letteralista, ma simbolica come l'Apocalisse. Guardate il Monforte, chissà che cosa ha visto, sentite. Lasciami gridare, lui dice al Signore ora, al fuoco, al fuoco, al fuoco! Aiuto, aiuto, aiuto! C'è fuoco nella casa di Dio, c'è fuoco nelle anime, c'è fuoco perfino nel santuario, aiuto! Stanno pugnalando il nostro buon padre, Benedetto XVI. Non è scioccante questa preghiera? Ha visto tutto. Ma la massoneria internazionale e i modernisti sono riusciti a strapparvi e a scipparvi queste profecie che Don Minutella ha il compito da precursore del grande prelato di avere restituito perché quando arriva poteste dire, ah però qualcuno già ce ne aveva parlato. Avete sentito? È la visione simbolica di una chiesa che va in fiamme, come Notre Dame di Parigi. E la chiesa è in fiamme! E c'è il fuoco dell'eresia, il fuoco dell'anticristo! Hanno pugnalato il nostro buon padre, sì, Benedetto XVI è stato tradito, pugnalato alle spalle ed è lui il nostro buon padre. Tutti i buoni sacerdoti sparsi nel mondo cristiano vengano e si uniscano a noi. Formiamo insieme sotto la bandiera della croce un esercito schierato e pronto alla battaglia per attaccare compatti i nemici di Dio che hanno già dato l'allarme. Signore alzati perché fingi di dormire. Alzati con tutta la tua onnipotenza misericordia e giustizia. Alzati con tutta la tua onnipotenza. Formati una compagnia scelta di guardie del corpo per proteggere la tua casa che è la chiesa. La chiesa di Roma, a scanso di equivoci. Per difendere la tua gloria e salvare le anime affinché ci sia un solo vile, un solo pastore e tutti possano glorificarti nel tuo tempio che è la santa madre chiesa. Amen. Die selma laudetur Jesus Christus.